La squadra mobile di Taranto ha chiuso il cerchio nelle indagini per l'efferato omicidio avvenuto il 16 dicembre del 2020 al Rione Tamburi in via Machiavelli a Taranto. Fu ucciso un uomo di 39 anni, Graziano Rotondo. Il questore di Taranto e il capo della squadra mobile Manco hanno illustrato i dettagli dell'operazione che ha portato all'arresto del presunto terzo autore di questo omicidio. Si chiama Giovanni Nigro, a 23 anni. C'è stato un omicidio veramente ferato se pensiamo che era una morte annunciata nel senso che la vittima ha avuto percezione del rischio che stava correndo, cioè del fatto di essere inseguito, di essere stato scoperto all'interno di quel sotterraneo e quindi ha visto la morte in faccia. Ci sono stati dei minuti sicuramente di terrore, riteniamo, una ricostruzione del tutto umana dei fatti. Credo che questo comporti anche una contestazione di aggravante nel capo di imputazione relativa. L'accusa è di concorso in omicidio per il quale poco dopo i fatti furono arrestate altre due persone, Vincenzo Balzo e Carmelo Nigro, con lo stesso motivo. L'episodio sarebbe maturato in quanto la vittima fu trovata in un luogo dove veniva custodita la droga. L'uccisione avvenne in uno scantinatto, nelle cosiddette case parcheggio, in via Machiavelli, con un colpo d'arma da fuoco al petto. Ci mancava l'ultimo tassello, ovvero la responsabilità del terzo soggetto oltre ai due che furono fermati nell'immediatezza e quindi riteniamo, appunto, per quanto riguarda la responsabilità dell'omicidio di aver chiuso il cerchio. Anche nel centro storico c'è stata un'attività dei falchi, a quelle poi va quella che è l'attività più pregnante, quella con intercettazioni, con ambientali, con riscontri che derivano anche dalle attività di polizia scientifica. Quindi un'attività tutto tondo, come ho detto prima, che consente di dare una risposta efficace a quelle che sono le situazioni che si vengono a creare sul territorio, anche di fatti di sangue, come in questo caso. Grazie.